fine della telenovela lino banfi l'attore ha deciso di abbandonare ballando con le stelle già la scorsa settimana durante la diretta aveva annunciato di avere l'intenzione di ritirarsi per lasciare spazio ai giovani cosa altro posso chiedere voglio lasciare con lo zucchero sulla bocca milly carlucci era intervenuta invitandolo a riflettere per una settimana per pensare bene alla scelta da prendere e lasciando intendere che dietro alla scelta di lino non c'era soltanto una questione di altruismo verso le nuove leve quanto piuttosto la difficoltà di sostenere allenamenti quotidiani stancati all'età di 86 confermo che non posso continuare per mille ragioni sono stato anche male ultimamente vado avanti a tre antibiotici al giorno mi hanno tolto due denti miei e uno non mio ho subito un intervento tutto per un semino così banfi nel congedarsi dal programma io non lo sapevo poi l'ho saputo che è stato male ora che banfi sia un mostro di bravura umanità e rispetto è risaputo e tutti glielo riconoscono per quel che riguarda la decisione di abbandonare il programma di rai 1 però c'è qualcosa da ridire ok si sta facendo tv e spettacolo ma il discorso è una se già si inizia un'avventura con l'idea di arrivare fino a un certo punto lo stesso bandi ha detto che si era messo il limite di arrivare al massimo a tre puntate forse è meglio non iniziarla e lasciare il posto a qualcuno che sia in grado davvero di arrivare eventualmente fino in fondo